Ciao ragazzi, bentrovati! Oggi insieme a voi voglio fare l'unboxing della mia nuova 92X Performance. L'ho appena ricevuta e volevo aprire con voi. Quindi, andiamo a vedere insieme. Apriamo la nostra valigetta. Tadam! Eccola qui. Allora, la pistola viene fornita di serie. Prima cosa controlliamo che sia scarica. Ok, arma completamente scarica. Viene fornita di serie con due caricatori e due tipi di guancette. Dopo abbiamo il carichino, il lucchetto, le istruzioni, la garanzia. Comunque, le cose che ci interessano sono, per questa prova di oggi, vedere la configurazione con cui nasce la pistola. La pistola nasce per la categoria production, quindi viene fornita con tacca di mira regolabile, cosa importantissima, già di serie. Mirino in fibra, con fibra da 1,5 mm. Lo scatto è già quello dell'Extreme S, lo scatto Extreme S, quindi è già molto performante. Abbiamo già visto che la differenza principale sta appunto nei leveraggi delle sicure, che sono non più sul carrello o sul turatore, ma direttamente sul fusto. Questa è una modifica che è stata fatta per un concetto sportivo, per cui nasce il 92X, e ci dà modo di essere molto più performanti, diciamo, nella parte di controllo dei leveraggi e di impugnatura dell'arma nelle sessioni di tiro un po' più action, quindi un po' più rapide. Detto questo, viene fornita con una doppia guancetta, questa è la guancetta che viene montata di serie, che è, diciamo, la slim, quella un po' più stretta, guancetta in plastica, che mantiene il profilo originale del fusto della pistola. Questa invece è la seconda guancetta che viene fornita di serie, sempre in plastica, con un rigonfiamento, diciamo, uno spessore maggiore sulla parte del dorsalino, che va un po' ad inclinare e a modificare l'angolo originale del fusto. Bene ragazzi, quindi adesso gli diamo una bella pulita, visto che l'arma è in tonso e quindi è ancora tutta unta, è la prima volta che la prendo in mano, diamo una bella pulita, andiamo a fare qualche colpo di prova per vedere se è tarata correttamente e per vedere un po' le prime sensazioni. Pistola out of the box, quindi completamente originale, noto subito la differenza rispetto alla mia, in quanto monto guancette diverse, scatto diverso, mire diverse, quindi insomma, è leggermente differente, però devo dire che lo scatto che troviamo di serie su quest'arma qua è, penso, uno degli scatti migliori che abbia mai sentito. Ok, prossimamente poi vedremo come e cosa si può fare per andare a migliorarlo ulteriormente. Per prima cosa vediamo dove spara l'arma e se ci sono da fare modifiche, regolazioni alle mire. Ok, l'arma spara a basso, quindi regoliamo un attimo la tacca di mira. Andiamo a regolare quindi la tacca di mira in quanto la pistola sta sparando un po' basso, con l'attrezzo che troviamo di serie, vedremo nel dettaglio in un prossimo video come andare a regolare le mire e settare le mire correttamente. Torniamo alla nostra prova. Ok, perfetto, l'arma adesso è tarata correttamente. Ho qualche problema con lo scatto in quanto sono abituato con il mio che è molto più sensibile ma è solo questione di prenderci la mano. Ok, proviamo a vedere su sequenza di tiro un po' più rapide cosa succede. Ok, allora è molto differente dalla mia, se non altro per il setting che ha l'arma. Monta dei serie è una molla da 13 mi sembra quindi in questo caso è molto diversa dalla configurazione che sto adoperando io sulla mia. In più guancette diverse, mire diverse, insomma l'arma è completamente diversa da quella che sto utilizzando quindi necessita di un po' di abitudine per poter performare un po' meglio. Però torno a ripetere, così configurata, pronta per la production, l'arma è pronta a gara. Non necessita di nient'altro per poter essere competitiva. A breve vedremo in un video come preparerò quest'arma per le competizioni, settata come piace a me. Quindi andremo a sostituire tutti i componenti, vedremo quali componenti sostituire, come sostituirli e come settare l'arma correttamente. Quindi state connessi, iscrivetevi al canale, mettete un bel like se vi è piaciuta questa recensione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!